ciao ben trovati a tutti allora il punto su euro dollaro cercando di capire se la fase di debolezza è al termine o se ancora ci sarà da attendersi ribassi sulla coppia argine del forx siamo su time frame dei cannelli giapponesi dopo aver perso questo livello in area 1 16 c'è stato un po di incerti e aveva formato un canale rialzista che sembrava potesse far ripartire su canale rialzista anche molto preciso vediamo che il supporto la base del canale rialzista verrà più volte tenuto fino ad andare a prendere la parte alta dove il prezzo forma un pattern engulfing irish in un pattern ribassista sulla sulla resistenza sostanzialmente questa resistenza ha tenuto il prezzo scende la a una ripartenza invece poi complice la fed forza sul dollaro discesa pesante e candela dolci di incertezza venerdì la candela dolci quindi l'incertezza potrebbe farci anche presupporre una possibile ripartenza ma da analisi tecnica secondo me chiaramente non credo sia finita la la discesa e potrebbe arrivare a un livello che peraltro un livello molto preciso non credo sia finita perché semplicemente se noi andiamo a proiettare la prima il la alla alla partenza del canale rialzista di breve poi rotto e semplicemente andiamo semplicemente per fare la proiezione come da analisi tecnica a prendere il livello di 1 10 quindi una cifra tonda soglia psicologica e soprattutto vediamo un'area che nel lungo periodo è un'area che il prezzo ha sentito prima e che quindi qui potrebbe riconoscere come supporto è un'area non lontana visto che adesso siamo a 11 45 11 5 è apprendibile e in questo caso in questo livello 1 e 10 dovessimo avere un pattern rialzista senza anticipare nulla senza fretta solamente in presenza di un pattern rialzista andremo in ottica longa anche di medio periodo dico senza anticipare nulla perché se anche 10 non dovesse tenere potremmo andare all'altro livello supportivo in area questo velo però a giudicare dal movimento della prima gamba ribassista l'estensione dovrebbe finire all'incirca 1 10 quindi attendiamo senza fretta e ripeto su eventuale pattern rialzista andremo a valutare l'ingresso long di medio periodo un saluto a tutti e buon trading